Questa mattina Trani, la polizia locale, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza e i carabinieri della compagnia di Trani hanno eseguito lo sgombero della casa del custode della scuola media Giovanni Bovio, occupata da alcuni mesi da un nucleo familiare non avente titolo, composto da 5 minori ed un uomo pregiudicato. Il tutto è avvenuto intorno agli ore 8. La vicenda parte da lontano febbraio 2017, quando la stessa famiglia occupò la casa natale di Giovanni Bovio. Al fine di rendere sereno lo sgombero coatto, è stato necessario trovare una sistemazione per i minori del nucleo familiare, che ora saranno ospitati dal nonno, subito resosi disponibile ad accogliere i propri nipoti. In un clima sereno, dunque, i 5 minori sono stati accompagnati dalla polizia locale, che ha provveduto al trasporto dei bagagli, immediate le operazioni successive di trasloco di tutto il materiale che componeva l'arredamento dell'immobile tramite una ditta specializzata. La struttura, definitivamente liberata, è stata così riconsegnata alla disponibilità del comune di Trani. Sul posto, oltre alla polizia locale e ai carabinieri, presenti anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Come detto, il tutto si è svolto nella massima serenità, senza dover ricorrere ad alcun tipo di intervento forzato.